Signori, sono le 2 della mattina. Rockstar ha da poco pubblicato il trailer di GTA 6. Che fai? Non lo condividi con la community? Non volevo perdermi questo momento, lo volevo lasciare a testimonianza del canale. Sono 10 anni dall'uscita di GTA 5 e dopo una decada e finalmente abbiamo le prime immagini di GTA 6. Il video, questo trailer, doveva essere rilasciato in Italia domani alle 15 ma a quanto pare dei leak erano iniziati a circolare così Rockstar ha deciso di rompere il conto alla rovescia che aveva messo per la giornata di domani e l'ha pubblicato subito. Mi è arrivata la notifica e quindi in questo video non andremo ad analizzarlo anche perché ragazzi, se no mi mandano i carabinieri a casa. Quindi ce lo vediamo solamente. Ci spariamo questo minuto e trenta di GTA 6, poi in questi giorni, nelle prossime ore avremo modo di commentarlo e di vedere un po' di cosa si tratta. Ragazzi, non voglio perdere ulteriore tempo, è tutto pronto, godiamocelo, mi raccomando, lasciate tantissimi polliciotti per sostenere il canale e se siete nuovi benvenuti in famiglia, iscrivetevi, attivate la campanella. Non perdiamo tempo, signori. Io non ce posso credere. GTA 6, tutto per voi, tutto per noi. Grazie a tutti. Well, look who's back. The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team. Trust? Trust. Havevo ipotizzato un inizio, una fine 2024, inizio 2025. Ora, spero, sia inizio 2025, perché se così fosse, diciamo, un annetto ci sta. Se fosse tipo fine 2025, avremmo ancora due anni di attesa, ma capirai, dopo dieci anni, che fai altri due anni, non li aspetti. Ragazzi, come al solito, è il trailer alla GTA, come fu per il GTA 5, il mischione di roba, ci vanno per tutto, si respira il mood, il profumo. I personaggi sembrano dire, appartengo a GTA, eccomi, sono qui, è GTA. E ho visto, beh, chiaramente abbiamo visto i protagonisti maschile e femminile, uomo-donna, c'è Lucy, Lucia, la donna. Non ho visto l'uomo se ha detto il nome, avremo modo di riguardarlo il trailer. Mi sembra ambientato ai giorni nostri, anche se ho visto delle macchine, comunque, anni 80, ho visto un Ferrari testa rossa, però, insomma, tanta, tanta follia. Ho già visto il coccodrillozzo che, beh, va bene, ragazzi. Niente, non è che possiamo dire molto al riguardo, ce lo siamo sparati e adesso me lo vado a rivedere tipo 10 volte, perché voglio vedere frame per frame. Ripeto, in questo caso non lo faremo in questo video, perché è tardi e volevo semplicemente lasciarlo a testimonianza del canale, il ricordo della visione notturna, insieme a tutti voi del trailer GTA. Fatemi sapere, voi, se lo state, se lo vedrete, tanto ve lo pubblico subito, questo video lo faccio a scippa, poi in nottata. Se lo recuperate domani, insomma, comunque lasciate tantissimi commenti, fatemi sapere le vostre impressioni. Ripeto, c'è poco da parlare, insomma, più che altro adesso c'è l'euforia del momento, e poi però nei prossimi giorni analizzeremo un po' meglio il tutto e sperando che poi magari possa uscire anche qualche altra informazione, qualche altra notiziola qua e là. Intanto, ragazzi, grazie. Grazie per essere passati, grazie per la visione. Mi raccomando, sostenete il canale lasciando tantissimi like. Se siete nuovi, veramente benvenuti in famiglia, fatemi un giro sul canale perché ci sono tante cose interessanti. Iscrivetevi e attivate la campanella. Allora, da De Daniele è tutto, vi voglio bene, vi mando un abbraccio e viva GTA. Alla prossima.